Buongiorno e buon anno innanzitutto, sono qui con il mio cappuccino oggi di Dunkin' Donut come sempre a fare un po' un riassunto, una preview di quella che sarà la nostra giornata oggi andremo a fare prima tappa al The Vessel purtroppo non si può più salire sul The Vessel o forse per fortuna visto che soffro little bit di vertigini cos'è il The Vessel? E' quella struttura nito d'ape che noi avevamo già visto nel 2017 ma che la stavano ultimando e non capivamo, pensavamo fosse un parcheggio in realtà è una struttura con tante scale dove si sale, dove si scende e dove si fanno delle foto ma che cosa è successo? Andiamo a vedere insieme Il The Vessel è stato costruito per riqualificare il quartiere di Hudson Yards come abbiamo visto più e più volte New York o meglio Manhattan è stata riqualificata un po' in toto partendo da piccole zone e ogni zona era prima malfamata e poi è stata riqualificata per dare una luce diversa alla città e secondo me fanno benissimo quindi il The Vessel è stato costruito per riqualificare la zona urbanistica di Hudson Yards come ho detto è una struttura a nito d'ape alta a 16 piani con 154 rampe di scale, quasi 2500 gradini, 80 terfazze panoramiche per visitatori dalle quali si possono scattare delle foto bellissime e il costo stimato per questa struttura è tra i 150 e i 200 milioni di dollari nulla in pratica finanziata dall'azienda Related Companies è stato rivelato al pubblico il 14 settembre del 2016 la costruzione ebbe inizio nell'aprile del 2017 con pezzi prodotti in Italia e trasportati negli USA inaugurata il 15 marzo del 2019 infatti quando noi siamo venuti a dicembre del 2017 era in costruzione l'11 gennaio 2021 a seguito di una serie di suicidi l'attrazione fu chiusa al pubblico in maniera indefinita non si sapeva quando l'avrebbero poi riaperta è stata riaperta allo stesso anno il 28 maggio del 2021 ma fu chiusa nuovamente il 29 luglio del 2021 dopo l'ennesimo suicidio inizialmente ci furono delle controversie sulle royalties delle foto perché non le volevano attribuire a chi le scattava poi alla fine chi ha scattato le foto all'interno del devessere è autore di quelle foto e le può pubblicare tranquillamente ci furono anche delle controversie per quanto riguarda l'accesso per le persone disabili perché non c'erano possibilità di accedere poi sono stati costruiti degli ascensori vediamo ora i vari casi di suicidio forse quelli più influenti il 19 febbraio del 2020 un ragazzo di 19 anni si suicidò gettandosi dal sesto piano il 22 dicembre del 2020 un ragazzo di 24 anni si suicidò gettandosi dalla struttura l'11 gennaio 2021 un turista di 21 anni si suicidò e la struttura fu chiusa come abbiamo visto in maniera indefinita venne riaperta il 28 maggio del 2021 con nuove norme cioè bisognava prima la struttura era free era libera non si pagava l'accesso hanno inserito l'acquisto di un biglietto e la necessità di essere di essere non da soli ma almeno in due così l'uno controllava l'altro il 29 luglio del 2021 un ragazzo di 14 anni si suicidò mentre era con la famiglia quindi pagato il biglietto erano più persone e in quel caso la struttura fu chiusa in maniera totale quindi ora non si può visitare i pezzi del The Vessel sono stati costruiti e assemblati nel comune di Monfalcone in Toscana quindi trasportati appunto dall'Italia si trova nel quartiere più giovane di Manhattan Hudson Yards ed è alto 45 metri come abbiamo visto 16 piani oggi visiteremo due grattacieli uno è l'osservatorio summit che da quello che dicono da quello che si dice in giro è veramente bello è tutto un gioco di prospettive di specchi e vetri altra cosa che faremo oggi è l'highline cioè la passeggiata su quella che era una vecchia ferrovia dismessa anche in questo caso hanno riqualificato la zona e l'hanno riqualificata molto bene è un giardino urbano costruito su una vecchia linea ferroviaria sopraelevata è un parco lineare di 2,5 km lungo il lato dell'Hudson quindi si vede anche il fiume Hudson va da Chelsea Market ad Hudson Yards che è il quartiere più trendy di Manhattan noi partiremo da Hudson Yards perché abbiamo il biglietto del grattacielo e poi andremo verso Chelsea Market lungo la struttura ci sono vari accessi quindi non è che uno entra e deve uscire alla fine ci sono vari ingressi intermedi la sua storia risale agli anni 30 quando nel west side della città circolavano i treni merci che rifornivano New York di carne infatti Chelsea Market è famoso per la carne in seguito quando l'autostrada cominciò a essere usata per il trasporto delle merci i binari caddero in disuso e le erbacce cominciarono a spuntare conferendo loro un aspetto trascurato torniamo al degrado di New York negli anni 90 si pensava di smantellare i binari per far posto a nuove costruzioni ma un'attenta associazione di quartieri di Chelsea la France of Ireland la salvò per preservare questo pezzo di storia di New York e alla fine si decise di ripristinare i binari e trasformare in un giardino urbano sopraelevato il cui primo tratto è stato inaugurato nel 2009 la seconda e la terza sezione nel 2011 e 2014 Despur l'ultima nel 2019 quindi molto molto bella questa passeggiata che faremo oggi poi oggi c'è anche una bellissima giornata mentre ieri pioveva è bene oggi passeremo anche a Soho Soho è south of Houston street era un'area industriale piena di fabbriche e il fascino del quartiere ha attirato le ricchezze che hanno reso i suoi edifici e le sue strade il luogo di nascita dell'industria chic quindi oggi è un'area piena di bar ristoranti e negozi molto trendy sempre questa cosa qui New York è bella perché è un'araba fenice e quindi forse proprio perché il mio animale guida penso che sia l'araba fenice perché io passo dei momenti down ma poi mi risollevo e mi piace proprio per questo motivo New York dovremmo passare anche a Tribeca oggi perché voglio far vedere una cosa molto carina alla baby Tribeca è nata come indovinate un po' come è nata a Tribeca come un'area industriale ed è poi diventata un quartiere bohemian con edifici che presentano la tipica scala d'emergenza sulla facciata quelle che vediamo in pratica nei film qui si trova la caserma dei pompieri di Ghostbusters il film del 1984 e l'andremo a vedere abbiamo parlato di Hudson Yards visto che questa mattina la prima tappa la faremo proprio ad Hudson Yards è il nuovo quartiere più in voga di New York in pochi anni è passato da area abbandonata da degrado totale al miglior oro delle residenze di lusso di Manhattan Hudson Yards è considerato il più grande progetto immobiliare privato nella storia degli Stati Uniti non vedo l'ora di andare oggi saliremo anche su The Age sicuramente lo conoscete The Age è uno dei punti panoramici più spettacolari di New York perché è quella struttura che finisce a punta quindi all'aperto che ha il pavimento in vetro si trova ad Hudson Yards anche lui e si chiama 30 Hudson Yards 30 Hudson Yards è futuristico ha una forma freccia al centesimo piano si trova questa terrazza che appunto termina freccia è alto 345 metri ed è il più alto osservatorio all'aperto dell'emisfero occidentale la terrazza in vetro di 700 metri quadri con vista panoramica a 360 gradi su New York fortunatamente oggi è una bella giornata quando si entra nell'osservatorio si incontra una mostra interattiva che analizza la costruzione del quartiere di Hudson Yards quindi vedremo come è nato questo quartiere l'ascensore interattivo in 52 secondi arriva a un osservatorio e interno è totalmente vetrato è stato inaugurato l'11 marzo del 2020 all'interno dell'edificio costruito in 4 anni si trova un pendolo di 650 tonnellate che controlla l'equilibrio dell'edificio speriamo che oggi sia positivo oggi sarà questo il nostro tour come sempre venite con noi e vi faremo vedere durante la nostra giornata tutto quello che andremo a vedere let's go di Natte ball d'aria di Gioia non c'è nessuno buongiorno New York buon anno tini via le famose case di New York con le scale sterne con le antincendio ci sono le famose case in mattone domenica 1 gennaio in una Manhattan che ancora dorme siamo qui ad attendere il nostro autobus siamo al The Shops al numero 20 di Hudson Yards il centro commerciale di lusso di 7 piani dove si riunisce il meglio dell'universo della moda Little Spain Market al 10 di Hudson Yards è un mercato con prodotti tipici spagnoli costruita per la riqualificazione urbanistica di Hudson Yards The Vessel è una struttura nito d'ape alta 16 piani con 154 rampe di scale quasi 45.000 gradini e 80 terrazze panoramiche per i visitatori al momento la struttura è definitivamente chiusa a causa dei tanti suicidi The Shops The Vessel and The Shed questa è una struttura per teatri e il tetto è retrattile e cambia forma svelando un secondo edificio adesso entriamo al The Shops per andare a vedere The Age The Age lì su in alto è uno dei punti panoramici più spettacolari di New York per salire al The Age bisogna entrare al The Shops e salire al quarto piano è aperto dalle ore 8 alle ore 24 inizia l'avventura quando si entra nell'osservatorio si incontra una mostra interattiva che analizza la costruzione del quartiere di Hudson Yards anche l'ascensore è interattivo e con 52 secondi si arriva a un osservatorio interno totalmente vetrato inaugurato l'11 marzo del 2020 ospita gli uffici di aziende famose come la CNN vi ricordo che mi dà fastidio il vuoto vi stupirò con effetti speciali adesso attraverso il vetro la statua della libertà il simbolo di New York ci siamo l'highline è un giardino urbano costruito su una vecchia linea ferroviaria sopraelevata siamo sull'highline ieri pioveva e oggi c'è vento tanto vento una passeggiata lunga circa 1,5 km sul lato dell'Hudson che va da Chelsea Market ad Hudson Yards il quartiere più trendy di Manhattan Chelsea Market è uno dei mercati alimentari più famosi di New York un tempo era la fabbrica dei biscotti Nabisco quella che ha inventato i biscotti Oreo per intenderci un po' di caldo qui al Chelsea Market e adesso andiamo alla ricerca di qualcuno che faccia i bevel abbiamo preso i bevel da Black Sea buoni piaciuto il tuo? si molto pieno anche il tuo com'è? buono il mio prezzo è un po' di caldo è una tutta vicino Chelsea Market c'è Starbucks Rostery beh un giro lo dovevamo fare passeggiando per Manhattan abbiamo anche incontrato un mini Flatiron Building carino siamo al 75 e mezzo di Bedford Street questa è la casa più stretta di New York e qui ha abitato Cary Grant carino quanti albedi di Natale buttati l'avete riconosciuto tutti vero? l'appartamento di Cary Bradshaw in Sex and the City siamo a Beverly Street dove qui hanno girato ovviamente Sex and the City la casa quella di Cary Bradshaw chi l'ha conosce famosissima e dal set di Sex and the City al set di Friends è un attimo e dopo Sex and the City siamo sul set di Friends sul set di Friends e non poteva mancare la caserma di Ghostbusters sulla 23esima strada tra la Fifth Avenue e la Broadway si trova il Flatiron Building la cui punta è larga solamente 2 metri è alto 87 metri con i suoi 22 piani all'angolo della strada troviamo il negozio della Lego e poi Italy tra i grattacieli più belli di New York è il Chrysler Building ed eccoci a Brian Park parco pubblico di circa 39.000 metri quadrati siamo Brian Park io adoro questo parco l'area attualmente occupata dal parco fu istituita nel 1823 come cimitero per i poveri e così rimase fino al 1840 quando centinaia di cadaveri furono trasferiti a Worst Island nel 1847 l'area fu adibita a parco ma il nome Brian Park gli fu dato solo nel 1884 in onore del giornalista del New York Times William Cullen Brian il parco è gestito da un'associazione senza scopo di lucro la Brian Park Corporation fondata nel 1980 da cimitero ottocentesco divenne negli anni 60 luogo di spaccio chiuso nel 1989 fu ripulito dalla malavita e usato per la moda dal 1994 al 2009 infatti era il luogo dove due volte all'anno veniva organizzata la settimana della moda di New York da giugno ad agosto ogni lunedì sera si può assistere a un cinema all'aperto con proiezione gratuita in inverno si svolge il Winter Village con tanti mercatini natalizi e la pista di pattinaggio all'aperto di Rink la prenotazione per la pista si può fare solamente tramite sito con pagamento con carta di credito Grand Central Terminal è la stazione ferroviaria più grande del mondo sia per il numero di banchine 44 sia per il numero di binari 67 si sviluppa su due livelli entrambi sottoterra con 41 binari nel piano superiore e 26 in quello inferiore M42 è una grossa stanza sotto il Terminal che contiene il convertitore usato per convertire l'elettricità da corrente alternata a quella continua che alimenta il Terminal dove si trova è un segreto e non può essere trovato su mappe anche se è stato trasmesso in tv nonostante fosse un segreto Hitler ne era a conoscenza e inviò due spie che vennero arrestate dall'FBI prima che sabotassero il convertitore questa bandiera è stata posizionata dopo l'attentato del retto di Gemelle l'orologio a quattro facce ognuna in opale ha un valore stimato tra i 10 e i 20 milioni di dollari il soffitto originale del 1912 fu sostituito alla fine del 1930 a causa della caduta dell'intonaco per decenni questo soffitto fu oscurato a causa del catrame della nicotina e rilasciati dalla combustione del tabacco vicino al cancro c'è una piccola macchia scura per ricordare quanto era sporco il soffitto prima del restauro degli anni 90 secondo il fondatore e benefattore della stazione Cornelius Vanderbilt il soffitto è dipinto al contrario perché la mappa stellare avrebbe dovuto essere vista da una prospettiva divina e non umana proprio di fronte all'Oyster Bar c'è questa parte qua dove le persone parlano normalmente a un angolo e si sente perfettamente bene all'angolo opposto adesso parliamo con loro ragazzi mi dite qualcosa per favore dimmi qualcosa Giulia che ti devo dire? è quello che vuoi dove andiamo? adesso andiamo a fare shopping dove andiamo a fare shopping? non lo so qua in giro tipo? è tipo non lo so io comunque sto parlando qua e Giulia è giù in fondo dietro a quelle ragazze là American Girls è un negozio di bambole amato da tutte le bambine americane e non solo infatti noi siamo qui qui potete trovare ogni tipologia di bambola molto somigliante a ogni bambina e ci sono anche le bambole più piccole e anche i maschietti è fantastico accessori un bar dedicato a loro parrucchiere wow è arrivato il nostro turno di patinare a Brian Park ho le gambe a pezzi The Summit o meglio One Vanderbilt è un nuovo spettacolare grattacielo per ufficio all'avanguardia vicino al Grand Central Terminal tra la 42esima e la 43esima strada è alto 427 metri e grazie alle sue prospettive di specchi e vetri si possono scattare foto migliori gli ascensori sono ultra moderni i piani 91 e 92 sono chiusi da pareti di vetro mentre il 93esimo piano ha una terrazza all'aperto Ascent è un ascensore di vetro fino a 368 metri all'esterno dell'edificio a 324 metri di altezza ci sono dei cubi di vetro che sporgono dall'edificio sui quali si può passeggiare e scattare delle foto memorabili si raggiunge dal Grand Central Terminal attraverso un passaggio sotterraneo il Vanderbilt Passage l'esperienza all'interno di questo grattacielo è veramente spettacolare check the mic and make sure it sound right boys iscriviti al nostro canale it sound right boys it sound right boys iscriviti al nostro canale it sound right boys iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale